Una mattinata all'insegna dell'ecosostenibilità e della cultura, quella organizzata dall'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Crotone, nel giorno nel quale si celebra la Giornata Mondiale della Terra, il più grande evento di sensibilizzazione alla tutela del pianeta che coinvolge ogni anno le scuole. La nostra è una scuola sostenibile, che vuole essere sostenibile, siamo consapevoli delle problematiche che il nostro pianeta sta attraversando e quale occasione migliore che una giornata come questa per ritualizzare una situazione che è invece quotidiana per quanto riguarda l'offerta formativa. La scuola si attiva moltissimo, i docenti sono molto attenti a determinate tematiche e avere questo giardino sicuramente in questo plesso aiuta molto. Oggi è la Giornata Mondiale della Terra, la Terra ce lo sta ricordando con questa meravigliosa pioggia, ci dona la sua acqua che a noi serve per vivere, e ce lo dobbiamo ricordare ogni momento. Mi piacerebbe che non ci fosse un solo giorno, ma 365 giorni all'anno. Noi come scuola abbiamo questo dovere di, come posso dire, incrementare nei ragazzi, implementare in loro l'interesse per la salvaguardia del pianeta. Importantissima la presenza del gruppo forestale dei carabinieri che ha regalato alla scuola 30 alberi da piantumare nel giardino dell'istituto. Noi siamo qui per portare avanti un progetto di educazione ambientale che l'Arma dei Carabinieri attraverso i reparti tutela biodiversità sta conducendo nella provincia di Catanzaro e di Crotone. In particolare l'istituto, la scuola Giovanni XXIII ha partecipato a questo progetto Un albero per il futuro attraverso il quale l'Arma dei Carabinieri vuole creare, promuovere la creazione di un bosco diffuso su tutto il territorio nazionale donando queste piante, consentendo ai ragazzi di creare delle piccole aree verdi che contribuiranno alla riduzione dell'aeridride carbonica nell'aria e quindi coinvolgendoli in un'attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale. All'interno della mattinata anche un momento ludico curato da Angelo Gallo e dal suo teatro della Maruca. Conosciamo un linguaggio che sicuramente arriva in maniera più diretta ai bambini oggi lo faremo attraverso una storia e io avrò l'onore di essere accompagnato dal maestro Pisani maestro del conservatorio di Cosenza che mi accompagnerà col sax. Raccontiamo una storia legata alla natura con una bella morale sull'onestà e appunto crediamo che i bambini siano il seme da coltivare per il nostro futuro.